dopo la sbornia post juve arriva un buon punto a napoli e sottolineo buon punto perché è vero rimaniamo dietro roma e appunto napoli ma con tutti gli scontri diretti a favore e già questo non è male se si arriva ad arrabbiarsi per un 2 a 2 al san paolo significa che la squadra è in costante crescita e come al solito gran parte del merito va attribuito al mister certo se c'era una squadra che ieri meritava la vittoria quella era sicuramente il napoli ma alla fine il pareggio è più giusto abbiamo calciato tre volte in porta due di queste una su rigore e l'altra in bocca ad ospina ma dopo tutte queste partite in pochi giorni per lo più contro le prime due della classifica non ci si poteva aspettare di più dovevamo uscire da questo trittico con tutte le ossa rotte l'abbiamo fatto con 7 punti 9 gol fatti e 4 subiti l'ennesima dimostrazione che stiamo diventando una squadra beh è meglio tardi che mai l'unica nota negativa è paquetà peggio ancora di donna rumma il brasiliano l'unica cosa buona che ha fatto è stata uscire dal campo sale makers commette quelle ingenuità che per lunghi tratti di campionato ci avevano accompagnato mentre che sì nel 4 2 3 1 sembra un nuovo giocatore c'è da dire che a 23 anni in tre stagioni con la nostra maglia per scelta tecnica ha saltato solamente una partita e anche questo gli va riconosciuto il suo compagno di reparto invece non è più una novità ismail ben asser a tratti è uno sprazzo di grande calcio un po sottotono ibra che esce anche arrabbiato non per la sostituzione ma per la prestazione della squadra per il resto va ricordato ai tifosi che l'anno scorso parlavano di fallimento stagionale dicendo che gattuso non faceva il bel gioco che è una frase che non ancora capito cosa significhi ma va bene lo stesso che abbiamo pareggiato contro un grande allenatore grazie